Buonasera a tutti e benvenuti. Ritorniamo ancora al DPCM, al nostro commento nazional popolare parte seconda e abbiamo parlato ieri un po' di regole basilari che ci ripetono per la millesima volta, ma che già sapevamo, ma che nulla portano di nuovo con questo DPCM. Mascherine, lavarsi le mani, distanze, fine della questione. Ora, analizziamo brevemente la questione sport. Io dico, ma dobbiamo avere la positività di Cristiano Ronaldo per spostare all'interno di quello che è lo sport, di quello che è il calcio, determinate regole di ingaggio e forse capire che questo campionato di Serie A, di Serie B, di tutte le serie che volete, potrebbe non arrivare alla fine. Potrebbe comunque arrivare alla fine così, inquinato da situazioni di questo genere che non rendono e danno serenità a chi svolge un'attività sportiva. Dobbiamo tenerlo e gestirlo perché gli interessi economici sono macroscopici e tali da condizionare anche la politica nel gestire o non gestire le competizioni sportive. E quindi anche nel DPCM si parla di, vabbè, si può fare, ci sono dei numeri, ci sono delle condizioni, sono le federazioni sportive, CONI e tutto il resto che se ne devono occupare con delle linee guida programmatiche per gestire la cosa. Ha un senso tutto questo? O forse non sarebbe meglio smettere completamente, interrompere completamente le competizioni sportive che al di là di tanti protocolli vedono un atleta contagiato, mezza squadra dall'altra parte contagiata e si vuole andare avanti ad oltranza. Questo DPCM che cosa ha detto, che cosa ha fatto con lo sport? Nulla. Ha semplicemente detto se la vedono le federazioni e poi tutto andrà come dovrà andare. Non è un bel modo di darci maggiori certezze, maggiori garanzie in questa situazione. E da qui io dico, ma vabbè, prendiamocela con quelli che giocano a calcetto, perché fondamentalmente lo sport di contatto di Serie A sportivo va bene, lo sport di contatto di Mario, Giovanni e Rossi che fanno il calcetto, il campetto di calcio amatoriale, poverini non possono farlo perché non sono giocatori di Serie A, non spostano interessi economici macroscopici e quindi quelli del calcetto, con la felicità magari delle loro mogli, se ne stanno a casa loro e la cosa finisce lì. Ma ha un senso tutto questo? Dobbiamo arrivare a un DPCM per questa organizzazione della cosa? E ancora il discorso anche delle sale teatrali, concerto, cinematografiche, aperte, non aperte, un certo numero all'interno, un certo numero all'esterno, che cosa mi va a significare? Rende giustizia a una rappresentazione teatrale, a un concerto, viverlo in questo modo, con queste situazioni dove comunque non siamo ancora riusciti a chiarire che cosa si deve fare o che cosa non si deve fare? Ha un senso gestire la cosa in questa maniera? O sento anche parlare delle manifestazioni pubbliche in forma statica. Non abbiamo dato agli italiani, e noi vogliamo capire le cose in maniera, ribadisco, assolutamente semplice, una linea guida da adottare. Abbiamo cercato di accontentare un po' tutti o tenere buoni un po' tutti in un momento dove non è necessario tenere buoni. È necessario farci capire che un progetto dall'altra parte c'è, un'idea c'è, una visione concreta ed oggettiva c'è e quella si deve perseguire, senza continuare a vivere un gioco di equilibri economico-sociali-politici, scontentando, ribadisco, tutte le categorie. Lo stesso dicasi per i musei, lo stesso dicasi per le scuole, con quella che è la delega, sempre alla scuola che davvero sta facendo miracoli, adesso poi possiamo prendercela con il ministro Azzolina, ma le scuole che portano avanti la vita e il nostro futuro, i nostri figli, con quello che possono, con quello che hanno, stanno comunque gestendo in qualche modo la cosa, senza questi aiuti particolari di questo DPCM. Grazie. Grazie.